Una lunga e circostanziata lettera in cui nove associazioni ambientaliste dicono no all'Eurotrial 4x4, la competizione di fuoristrada in programma a Villa Lago dal 28 al 30 luglio. Augusto De Sanctis, uno dei firmatari, riassume i motivi che hanno spinto le associazioni a scrivere a tutti gli enti interessati, chiedendo di fatto di rinunciare alla manifestazione. Perché siete molto critici, non soltanto voi, ma tante altre associazioni per questa manifestazione? Perché si tratta di Villa Lago, un paese delle gole del Salcittario, dove l'orso è presente in maniera continuativa con i suoi cuccioli, in particolare l'orsa amarena, addirittura in paese. Questo ha creato anche molti problemi perché hanno dovuto chiudere delle strade, addirittura ci sono state polemiche per la presenza di fotografi che disturbavano l'orsa con i cuccioli. Quindi se da un lato ci si lamenta addirittura del disturbo di alcune decine di persone, dotate di macchina fotografica, l'idea di pensare di fare un circo automobilistico proprio lì, ecco, ci fa pensare che ci sia un disturbo assolutamente inaccettabile per una specie protetta come l'orso, poi questioni anche di gestione dei contatti eventuali fra questa orsa che si avvicina addirittura alle case con centinaia di persone. Quindi anche questioni di sicurezza? Beh, di fatto sì, nel senso che ci sono state ordinanze nell'ultimo mese del sindaco di Villalago per vietare appunto l'accesso a una distanza troppo ravvicinata rispetto all'orso di 300 metri. Ebbene, l'area protetta è a 80 metri dal fito dove vorrebbero fare queste attività, quindi assolutamente va fatta una valutazione di incidenza ambientale che pare non sia stata fatta, almeno noi non abbiamo trovato traccia di questa valutazione, però è oggettivo il fatto che se bisogna far stare a 300 metri di distanza dei fotografi, figuriamoci un evento europeo con auto e centinaia di persone. Vi siete rapportati con gli enti, lo stesso sindaco di Villalago, il quale comunque ricorda che non si tratta di una gara di velocità ma di abilità e poi comunque dal punto di vista economico credo che sia una grossa opportunità per il comprensorio perché credo che siano tutti pieni gli alberghi. Beh, in realtà il Comune di Villalago è andato su tutti i giornali del mondo, su tutte le televisioni del mondo grazie all'orso. Negli ultimi anni il Comune di Villalago è stato conosciuto da milioni di persone proprio per la presenza dell'orsa a Marena con i suoi cuccioli e forse bisogna oneri e onori da un certo punto di vista. L'onore di ospitare questa specie che ci fa conoscere in tutto il mondo, l'onere magari di rinunciare ad alcune attività che però sono incompatibili non solo con l'immagine ma addirittura proprio in maniera concreta sia per ragioni di sicurezza sia per ragioni di rispetto di questo animale.